Santo Stefano di Camastra si prepara a ricevere la truppa televisiva di Bella Sicilia. Venerdì prossimo 22 luglio sono previste le registrazioni di un documentario televisivo che presenterà la città della ceramica con l'occhio del turista viaggiatore. Un tour nelle innumerevoli botteghe artigiane che offrono la possibilità di acquistare le coloratissime ceramiche artistiche siciliane. E poi spazio tra tante altre peculiarità che rendono Santo Stefano di Camastra una località ideale per un soggiorno rilassante. Il paesaggio dalle colline che ospita nel santuario del Letto Santo al viale della balconata artistica che apre allo scenario di Tramonti Mozzafiato con possibilità di ammirare verso l'orizzonte la famosa opera a finestra sul mare della Fiumara d'Arte e dei paesi costieri che si snodano da Castel di Tusa a finale di Pollina e Cefalù per poi toccare con un dito le Isole Olie. Lasciando il centro del paese dopo qualche centinaio di metri si arriva sulla spiaggia tra le meraviglie di acque marine turchesi e limpide che invitano sicuramente ad un rinfrescante bagno. Naturalmente le telecamere di Bella Sicilia regaleranno ai telespettatori le immagini del centro storico con le famose maioliche che ornano la villa comunale, le stradine e gli archi del sottopasso passando per le chiese e il palazzo Trabbia sede del museo regionale della ceramica e il luogo che custodisce la giara che ispirò la famosa novella di Luigi Pirandello. Molta evidenza alla buona cucina di Santo Stefano di Camastra. Le telecamere di Bella Sicilia faranno visita ai ristoranti che nei primi mesi dell'anno hanno partecipato al contest i sapori di Bella Sicilia con l'offerta enogastronomica che nella città delle ceramiche rappresenta un'ulteriore eccellenza da non perdere. Sarà un trepugio di bellezza dice soddisfatto l'assessore al turismo Alessandro Amoroso. Stiamo lavorando per programmare la scaletta della puntata. Costantemente mi sento con Michele Isgro coordinatore di Bella Sicilia che sarà anche conduttore della puntata per affinare ogni dettaglio compatibilmente con i tempi e la struttura del format televisivo. Rappresenteremo al meglio le principali peculiarità della città. Saranno coinvolti i colleghi assessori, alcuni consiglieri comunali ed alcuni cittadini volontari che accompagneranno la troupe alla scoperta degli angoli più suggestivi di Santo Stefano di Camastra conclude l'assessore. Ad accogliere la troupe televisiva sarà presente anche il sindaco Francesco Re. Si tratta di un servizio televisivo promozionale previsto per i comuni aderenti al circuito turistico regionale Bella Sicilia promosso dall'associazione Vivo in Sicilia di cui la nostra cittadina fa parte sin dall'origine del progetto. L'idea è di fare rete con altre località siciliane pensare in comune promuovendosi insieme e mirare e rafforzare le potenzialità promozionali che unite alla comunicazione mediatica di Bella Sicilia possono risultare vincenti anche per il nostro paese. Il format nelle prossime settimane sarà trasmesso da Onda TV canale 75 e pubblicato sui maggiori social network collegati al gruppo Comunicare24 e alla pagina di Bella Sicilia con un volume di oltre un milione e mezzo di followers che interagiscono da tutto il mondo.